In questo tempo segnato da autoreferenzialità e solitudine spetta i pastori del greggio ascoltare l'uomo che grida di essere aiutato e paternamente guidato nel cammino di ricerca, di vita e di felicità. È partito da questa riflessione il discorso di Papa Francesco ai nuovi Vescovi ordinati nel corso dell'anno, ai quali ha chiesto di lasciarsi guidare dallo Spirito per offrire al popolo di Dio il discernimento spirituale e pastorale autentico. Il Vescovo, ha detto Francesco, non è il padre padrone e nemmeno l'impaurito ed isolato pastore solitario, piuttosto colui che si confronta con la comunità in un dialogo sereno e aperto. L'invito accorato del Papa ai nuovi Vescovi è stato quello di coltivare un atteggiamento di ascolto e di comunione, rinunciando al proprio punto di vista per assumere sempre quello di Dio. Impegnatevi a conoscere con i vostri occhi i luoghi e le persone a esortato Bergoglio, siate aperti al cambiamento senza cedere all'immobilismo del si è fatto sempre così, alla rigidità o alla nostalgia di poter avere una sola risposta da applicare in tutti i casi. La missione che vi attende non è portare idee e progetti propri, né soluzioni astratamente ideati da chi considera la Chiesa un orto di casa sua, ma umilmente, senza protagonismi o narcisismi, offrire la vostra concreta testimonianza di unione con Dio, servendo il Vangelo, che va coltivato e aiutato a crescere in quella situazione specifica. Discernere significa pertanto umiltà e obbedienza. Grazie a tutti.